Domani si correrà a Bari la prima edizione della Pijama Run, la corsa solidale promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, con il patrocinio del Comune di Bari per sensibilizzare l'opinione pubblica sui tumori pediatrici. Una corsa o una passeggiata per sensibilizzare l'opinione pubblica sui tumori pediatrici è questo Pijama Run 2022 che si svolgerà domani a Bari, una delle 19 città italiane che ospiteranno l'iniziativa promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, che quest'anno festeggia 100 anni di impegno nella prevenzione oncologica. La Lilt Bari ha deciso di destinare i proventi derivanti dalle iscrizioni alle famiglie dei piccoli pazienti oncologici ricoverati al Policlinico di Bari come contributo alle spese di viaggio e di alloggio. La Pijama Run è alla sua prima edizione nella città di Bari, la Lilt nel suo lungo cammino, ormai di 100 anni di prevenzione, quest'anno tra le diverse iniziative ha voluto aderire a questa camminata di solidarietà per cui vi aspettiamo e a tutti gli iscritti alla Pijama Run sarà altresì donata la tessera associativa annuale della Lilt proprio per continuare insieme il percorso della prevenzione. Lo sport e la solidarietà sono le due parole chiave della Run Barese. Lo sport è inteso come strumento di prevenzione del tumore, mentre il Pijama come simbolo di vicinanza ai bambini in terapia oncologica. L'evento si svolgerà al Parco 2 giugno dalle 18.30. Il villaggio Accoglienza sarà allestito in Viale Luigi Einaudi in collaborazione con la Brigata Pinerolo dell'Esercito Italiano e sarà operativo dalle 17.00. Presentare una manifestazione in Pijama è una cosa che suscita quasi l'arità, anche se per un motivo molto serio, per raccogliere fondi nei confronti dei bambini malati di tumore. E quindi non potevano raccogliere l'appello della Lilt, ma la cosa importante è che tutti i cittadini baresi, le donne e gli uomini della nostra città provino ad iscriversi a questa Pijama Run. Dovete tirar fuori un momento di intimità della vostra vita, quello in cui indossate il Pijama, portarlo con voi venerdì a Parco 2 giugno e sul sito del Pijama Run avete la possibilità di iscrivervi. Mi raccomando, mettete l'opzione Bari, altrimenti le risorse andranno alla Lilt di Milano e voi sarete anche costretti ad andare a correre a Milano. Grazie.